Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo tornati con dei nuovi consigli per il vostro, per il nostro, per quello di tutti, del fantacalcio Siamo qui con 9 nuovi consigli per questa settima giornata di Serie A che inizia domani alle 6 con Udinese e Sampdoria Ma iniziamo subito con i nostri difensori Il primo nome è quello di un difensore del Genoa che gioca in caso del Bologna ed è Zucanovic Zucanovic che nel Genoa è quello con la fanta media migliore, ovvero quello che tra voto in pagella e bonus e malus ha la media migliore tra tutti i difensori del Genoa Quindi secondo me questa non sarà una partita troppo impegnativa per il Genoa, troppo impegnativa per la difesa Zucanovic potrebbe anche colpire di testa, insomma potrebbe fare anche qualche assist a un buon piede Quindi secondo me è un giocatore da mettere in campo in questa giornata Il secondo nome è quello di un capitano, il capitano della Fiorentina, ovvero Astori Astori che giocherà con la Fiorentina fuori casa a Verona contro il Chievo Però il Chievo non dovrebbe essere un avversario troppo ostico per la difesa della Fiorentina E Astori dovrebbe riuscire a manovrare bene la propria difesa Sugli esterni ancora non si sa precisamente chi giocherà Ci sono tanti nomi per due posti Mentre due difensori centrali dovrebbero essere con ogni probabilità Astori e Pezzella E quindi Astori secondo me è un giocatore, è un altro giocatore da mettere Il terzo nome invece è un giocatore della capolista a pari con il Napoli, ovvero della Juve Nella Juve io vi consiglio Asamoah Perché Asamoah? Ok, ci sono tanti difensori della Juve Perché proprio Asamoah, anzi tanti giocatori della Juve Ok, metteteli i giocatori della Juve ovviamente, ma metteteli quasi sempre Perché comunque la Juve fa bene Contro l'Atalanta fuori casa non è una partita proprio semplicissima Però secondo me Asamoah quando chiamato in casa ha fatto sempre bene Quindi dovrebbe in teoria rilevare Alexandro per farlo un po' riposare E quindi io Asamoah un pensierino ci farei Dipende anche un pochino da chi altri giocatori avete in difesa Cioè se avete, non so, tre top player in difesa Ok, mettete quei tre che vi fanno sempre goal ogni giornata Non so se avete Goulam o altri giocatori del genere Che vi hanno sempre fatto bene, mettete loro Però Asamoah può essere una buona idea Passiamo al centrocampo dove in teoria abbiamo un altro panchinaro Che potrebbe rilevare un titolare Questa volta centra un po' ovvero nell'Inter Nel ruolo di trequartista ovvero Brozovic Brozovic e Gio Mario sono gli indiziati a ottenere quel posto Fuori casa contro il Benevento In teoria prevedo tanti gol però non si sa mai con l'Inter Però Brozovic se lo avete io un pensiero ci lo farei Ovviamente aspettate fino all'ultimo momento Per vedere se è più probabile lui o Gio Mario Al momento ancora non lo so Altro nome per il centrocampo Questa volta ci spostiamo sulla fascia Ci spostiamo alla Spal che gioca in casa con il Crotone Ed è Lazari Lazari è sicuramente uno dei migliori della Spal Uno di quelli che ha convinto più di tutti in questo inizio campionato E perché non metterlo in casa con il Crotone La Spal ha fatto vedere delle buone cose in alcune partite Potrebbe farne vedere altre Adesso che magari è sotto pressione contro il Crotone Spero per la Spal che ce la faccia E Lazari è un indiziato anche a segnare L'ultimo giocatore per il centrocampo è Milinkovic Savic Centroampista della Lazio Dovrebbe essere ruperato per questa partita in casa Contro il Sassuolo Quindi mettetelo ragazzi Perché Milinkovic Savic è un gran bel giocatore Segna, fa assist Fa delle buonissime partite Insomma dovrebbe essere ruperato Io un pensiero ce lo farei E andiamo infine all'attacco dove ho tre nomi Il primo ragazzi Come fare a non mettere un giocatore dell'attacco del Napoli Io oggi vi dico Calleon Ma vi potrei dire tranquillamente Insigne Vi potrei dire assolutamente Mertens Ragazzi è inutile che ve lo dica Mertens Come è inutile che vi dica Di Bala Ragazzi mettetelo È logico Però oggi vi voglio dire Calleon Perché è proprio così A sentimento Ma è un simbolo Nel senso se avete l'attacco del Napoli Giocatelo Perché segna veramente sempre Oltretutto Ha una partita nemmeno troppo difficile In casa contro il Cagliari Mettetelo Ragazzi avete Calleon Avete Mertens Avete insegna Metteteli ragazzi Metteteli Per il secondo nome Mi sposto a Torino Dove Iaic giocherà in casa Contro il Verona Iaic uno dei migliori A livello offensivo del Torino Insieme a Belotti Iaico Falke Non ha iniziato tanto bene Quindi tra i due Preferirei Iaic In teoria Altra partita Abbastanza semplice Per il Torino Dovrebbe segnare Iaic Potrebbe segnare Iaico Falke Potrebbe segnare Belotti Perché no Niang Però ragazzi Se avete Iaic Metteteli Ultimo nome di oggi Per l'attacco Ma in generale È Kevin Lasagna Kevin Lasagna Che giocherà A Udine Contro la Sampdoria Nell'anticipo serale Quindi si prevede Una bella cena Il sabato sera Quella Sampdoria A base di Lasagna Con questo Questa battutaccia Proprio orribile Diciamo che posso Chiudere qua Ragazzi Vi invito a lasciare Un bel mi piace Commentare Con secondo voi Chi potrebbe segnare Chi avete Chi secondo me Leo Potrei mettere questo Potrei mettere quest'altro Commentare Io cercherò Il più possibile Di rispondervi Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto Passate alla pagina Facebook E i profili Instagram Trovate nella descrizione E vi ricordo come sempre Be yourself Stay ignorant Ciao a tutti Grazie a tutti.